Ciao a tutti ragazze e ragazze e bentornati sul mio canale Io sono Joe Red e oggi parliamo di Nina Moric, ospita Vieni da me, vediamo che cosa ha combinato Nello studio senza pubblico Caterina Balivo ha intervistato Nina Moric nel suo programma Vieni da me La showgirl ha risposta a una serie di domande al buio, tra cui una in particolare sulla chirurgia plastica che ha creato dell'imbarazzo in studio Nina Moric infatti che indossava delle lenti a contatto le ha tolte per dimostrare di avere gli occhi marroni Tale comportamento però ha fatto andare su tutte le furie Caterina Balivo Molto attenta anche nel suo programma a trasmettere dei buoni messaggi La conduttrice alzandosi ha quindi esclamato irritata No Nina, stai ferma, non puoi toccarti gli occhi, è vietato, non si fa Un gesto che non è piaciuto molto a Caterina Balivo Non mettere dita negli occhi perché, non so se, insomma, l'abbiamo twittato un po' di puntate fa La locandina del Ministero della Salute che dà tutte le regole e dice di non mettere le mani negli occhi Di non mettere le mani in bocca Cioè, Nina, hai fatto un errore E voi, che cosa ne pensate? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra Per il momento ho concluso il video Se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news Un grosso abbraccio da Joe Red Ciao 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 Ciao